Allora Claudio mi hai chiesto una reaction al tuo regalo e sì, cerco di fare in fretta così posso caricarlo. Allora, c'è una lettera da Blitz Italian Cosplay a Ravetube. Ciao Andrea, ti scriviamo queste righe per ringraziarti per tutto ciò che hai fatto per noi. Prego! Allora, fin da subito abbiamo avuto molta affinità, ci hai sostenuto e aiutato con i nostri progetti, non dimenticheremo mai, mai come ti sei presentato al nostro raduno a Romics dicendo che avresti doppiato un personaggio di Blitz, lasciandoci col dubbio su chi poteva essere. A seguire sarebbe nata una fantastica collaborazione tra di noi, una collaborazione che ci avrebbe portato a fare delle live, foto, video sui nostri canali. Non smetteremo mai di ringraziarti per tutto quello, per tutto e per averci, sto leggendo di fretta, per averci portato un perfetto Kill Geopi sullo schermo e come non ringraziarti con questo dono. Firmato tutti i ragazzi di Blitz Italian Cosplay, ma io sono commosso, ma io sono commosso, veramente. Mi sa che ha superato il minotaggio, lo caricherò su Andrea Set Marino. Ma che cos'è, che cos'è? Allora, bigliettino adesivo di Blitz Italian Cosplay, seguiteli, sono brevissimi. Ah, ma dai, il simbolo dei Quincy, il simbolo anche di Kill Geopi. Sono onoratissimo, è stupendo, è bellissimo davvero. Grazie ragazzi, veramente originale. Grazie a voi per aver valorizzato tutto quello che, insomma, ho fatto. L'ho fatto, ecco. È andata così e sono fiero di averlo fatto. Ciao.